Allora dove vai dove vai dove vai come un ladro dove vai dove va bello quel giubbato di pelle grazie, chi è? mio, tuo, adesso è tuo ovviamente vabbè vabbè fa niente, hai chiesto? si, benvenuti questo folle santo Stefano con Giovanni, colazione e poi? non facciano freddo, fa freddo e poi che fai oggi? boh, ora vediamo, troviamo un giro, guarda che è qualche amico, a fine del bello a pezzi come ieri sappiamo che Avantieri è stata una serata particolare, Avantieri si, proprio alle pezze stavano solo gioia di birra, di spumante, alle pezze proprio e nient'altro, anzi sappiamo che da casa di qualcuno te ne sei anche scappato vero o non è vero? è vero oggi si è abbastanza lucido e vabbè la sbronza è andata terapia ce l'hai, domani bisogna andare di nuovo domani ce l'abbiamo anche un po' di indumenti, andiamo alla lavanderia vabbè che Natale è stato? con i botti con i botti, vabbè i pensieri voglio sapere io, quali sono stati, i pensieri di Natale non ci sono stati pensieri, è stato vivere il giorno tranquillo sembra che la decisione tu l'abbia presa in maniera definitiva dobbiamo fare il curriculum, ricordati ci mettiamo col computer da qualche parte, lo facciamo insieme hai sentito quelli che hanno scritto che non arrivavi a Santo Stefano a Santo Stefano sei arrivato o no, eccolo qua a Santo Stefano sei arrivato almeno quello o no? la voglia, so che ancora dopo arriviamo a Capodanno a Capodanno arriveranno le pezze sicuramente però devo arrivare io spero che queste feste passino il prima possibile è vero o non è vero? è vero vabbè non mi sono drogata che si intervita a me quando mi sto gambriaca è tutto un zimmo tutta la vita a me non facciamo, diventiamo da tossicodipendente ad alcolista mi sembra che il passaggio sia doveroso è normale, mi devo fare un'altra 11 mesi e non li vogliamo fare no, no, cerchiamo di basta vabbè, con le amicizie come va? tutto da posto anche con quelle un po' più pericolose pericolose nel senso che ti potrebbero in qualche maniera mi sento, usciamo, le cose poi me ne va niente di che tutto a posto, tutto sotto controllo fammi il 4, vediamo il 4, con sto frigo vabbè Giovan come sta andando in giro? sei facendo cazzate nel senso negozi tranquillo ma guarda che sguardo mamma mia benissimo, va bene saranno contenti tutti i buttafori dei negozi di bar guardatelo bene perché è lui ma non è vero ha smesso ha smesso, non lo fa più è vero? è dicalo, giuro non lo giuro non lo giuro, però vabbè abbiamo rallentato, ecco mettiamola su questo piano per ora siamo calmi ancora per ora siamo calmi va bene voi tenetelo sempre sotto controllo Giovanni fatemi sapere come fate sempre quando chiamate sta di là, sta di qua sta facendo quello sta con quello ieri mi chiamò uno dice sta con una persona pericolosissima si vede che è drogato non tu questo che stava con te e come fai a sapere? si vede non ci stavo proprio in da Bari non lo so sono stata tutta la giornata là vedi come qualcuno ci prova sempre Giovanni ormai ti conoscono tutti mi raccomando vogliamo salutare anche Tino ciao Tino eh sì perché oggi non c'è si sta riposando amico nostro vabbè Giovanni il pupazzo il pupazzo questo è il biglietto da visit certo è che tra te e lui mi volete vedere morto vabbè comunque ma mi servono soldi ancora quando poi non ti ne chiudo grazie per l'affetto che è inutile nei miei confronti eh veramente eh l'ho fatto per morire in mo non me ne frega proprio niente perfetto amen e con questo alle 10 di Santo Stefano io direi va a fare anche io eh che abbiamo sa va a sandir basta stop alle telefonate buon viaggio buon viaggio come la birra l'abbiamo fatto ora colazione con chiglia e caffè macchiato appunto e ora deve scendere con una bella peroni ghiacciata nel nome del padre del figlio e dello spirito santo ciao Giovanni ciao Giovanni ciao